Sì, sei sordo oltre che stupido, ho detto no. Cosa sei McFly? Un fifore? Come ne hai chiamato, Biff? Ho accettato la sfida e ho vinto. Ora, porgo il bicchiere ai cari amici Davide Venturoli, Alessandro Leonetti, Luca Fani, Giancarlo Tinelli e Federico Casarini. Vediamo se avete le palle, coglioni!